ciao buongiorno io sono ancora senza pc sto facendo le cose tutte ricorsissima quindi rapidissima macedonia musicale per oggi iniziamo da tananai che mi fa troppo ridere adesso ho fatto questa hit line un numero di telefono sponsorizzato insomma che si vede sulla metropolitana di milano e poi vabbè lo trovate anche scritto in giro per raccontargli gli affari vostri e chiedervi gli affari suoi lasciate un messaggio in segreteria poi dopo lui interagirà in qualche maniera farà dei contenuti dicono che canterà anche insomma qualcosa di musicale poi visto che l'otto marzo ad el 30 è l'album più venduto al mondo secondo l'ifb che è la federazione internazionale dei fonografici e in italia è stato certificato disco di platino e tra l'altro c'è oh my god l'ultimo singolo estratto che sta andando benissimo a 300 milioni di ascolti in streaming infine esce oggi il nuovo singolo di simona molinari lei balla sola simona molinari elegantissima questo singolo scritto e prodotto da fabio ilacqua storico autore francesco gabbani autore della canzone di sanremo di massimo ranieri e lei balla sola anticipa petali che arriva ad aprile è il disco nuovo di simona molinari e lei poi sarà anche in tour sempre a partire da aprile le date dell'otto e del nove di milano al blue note sono già sold out quindi c'è anche una data il 10 aprile e poi insomma il tour di simona molinari continua per oggi è tutto grazie di aver guardato ciao